Il conformista è uno che di solito sta sempre dalla parte giusta Il conformista ha tutte le risposte belle e chiare dentro la sua testa E' un concentrato di opinioni che tiene sotto il braccio due o tre quotidiani E quando ha voglia di pensare pensa per sentito dire Buonasera e benvenuti a Il conformista L'unica trasmissione che vi permetterà di capire se siete o non siete conformisti Io sono Luigi Marrese e questa è la seconda puntata Ma prima di cominciare vale la pena riportare una riflessione indotta dal nostro telespettatore Che paragona la figura dell'anticonformista del quale abbiamo discusso nell'ultima puntata Alla figura dell'oltre uomo teorizzata da Friedrich Nietzsche Ed in effetti l'abbinamento è quanto mai adeguato Abbiamo infatti discusso dell'anticonformista nella scorsa puntata In termini di pensatore libero, in termini di pensatore individuale Che quindi ridefinisce i propri canoni esistenziali Ma la differenza è quanto mai sottile nonché sostanziale Infatti si può dire che il superuomo è un anticonformista Ma non necessariamente l'inverso In quanto l'anticonformista ridefinisce i propri canoni di bene e di male Anche sostituendoli e quindi ridando un canone Quindi ridando una concezione di bene e di male Che può essere anche individuale perché no In realtà il superuomo ridefinisce i suoi canoni di bene e di male Annullandoli e quindi giungendo a uno stato di consapevolezza Di inesistenza di bene e di male Ma passiamo alla domanda di oggi Perché dopo esserci domandati se i giovani possono dirsi tendenzialmente conformisti Oggi ci domandiamo se gli adulti possono dirsi tendenzialmente conformisti E per rispondere alla domanda c'è ancora una volta la psicologa Maria Chiara Pagone Buonasera a tutti E proprio per continuare questo viaggio che stiamo affrontando Sul piano dell'ambito giovanile Ma anche sul piano del conformismo e dell'anticonformismo Discorrendo un po' con Luigi Ci siamo soffermati su una tematica che è il trauma transgenerazionale Probabilmente voi vi chiedete cosa sia e da dove esso origina La psicologia che per tanto tempo e forse ancora oggi non viene ben vista In realtà ha delle origini antichissime Ma degli studi sempre più approfonditi che hanno affondato nell'ambito delle neuroscienze Hanno permesso di indagare quello che appunto è il trauma transgenerazionale In che momento? In un momento storico molto particolare Cioè dopo la seconda guerra mondiale Si è iniziato a riscontrare che i nipoti di persone che avevano subito l'olocausto Iniziavano a manifestare delle sintomatologie depressive Sintomatologie ansiose Disturbi ossessivi Rimuginazioni ricorrenti E anche in alcuni casi dei tratti psicotici Questo ha portato gli studiosi e anche la scienza A cercare di capire che cosa generasse questi traumi Nonostante queste persone fondamentalmente nella loro vita Non avevano avuto grandi traumi reali Ecco che nasce appunto questa visione del trauma transgenerazionale In un settore della scienza che oggi viene chiamato epigenetica Che cosa vuol dire? Che cosa accade? Noi abbiamo una struttura del DNA Nel momento in cui noi subiamo un fortissimo trauma Che possa essere come questo Quindi culturale Ma anche una violenza, un abuso, dei maltrattamenti infantili, eccetera Nel momento in cui appunto il trauma esordisce Il trauma si manifesta Quindi c'è un evento scatenante Si avvia un processo di cortocircuitazione Sul piano del sistema nervoso Ecco che accade un vero e proprio rimbalzo sul piano del DNA Questo che cosa vuol dire? Che il nostro genoma, quindi l'insieme dei nostri geni E quindi il nostro corredo cromosomico Va a subire una trasformazione Solo dagli studi di neuroimmagine che sono stati fatti Quindi le neuroscienze stanno iniziando sempre di più Ad abbracciare la parte psicologica Che per molti è molto filosofica È un modo di pensare Ma in realtà questo non è Perché stiamo parlando di vera e propria scienza È stato possibile appunto attraverso tecniche di neuroimmagine Poter osservare che cosa accade Sia nelle persone traumatizzate Ma nel momento in cui esse iniziano un percorso di psicoterapia Accade proprio questo Accade che c'è sia una neoplasticità Quindi il nostro sistema nervoso Va a trasformarsi Quindi c'è una proliferazione neuronale E in più aumentano quelle che sono le connessioni intersinaptiche Ovvero le connessioni tra neuroni Questo perché? Perché la psicoterapia Che è uno spazio all'interno del quale due persone entrano in relazione Genera nuovi flussi di pensiero Quando subiamo un trauma nella nostra vita Tendiamo a ruotare con una stessa modalità Costantemente Senza riuscire a trovare strade Altre strade possibili Ecco che lo psicoterapeuta ha una funzione Che è quella di poter prestare la mente al paziente Per poter pensare cose nuove, cose diverse E migliorare le sue strategie operative nel proprio percorso di vita Quando c'è la manifestazione sintomatologica E la psicanalisi Questo la elogia C'è un momento in cui il sintomo deve essere preso in considerazione Perché il sintomo non è qualcosa da debellare Da eliminare Ma il sintomo è qualcosa da ascoltare Perché solo attraverso l'ascoltare il nostro sintomo Possiamo arrivare e poter sempre più andare indietro nel tempo E cercare di capire che cosa ha dato origine a quel trauma Ecco perché la psicoterapia ha una funzione Non solo riparatrice Ma nei casi Diciamo Diciamo dei giovani Può avere una funzione protettiva Cioè agire come processo preventivo Innanzitutto Un altro grazie speciale Per le perle di psicologia Della psicologa Pagone Traumi transgenerazionali Parole che fanno venire i brividi Soltanto a pronunciarle Ma cosa sono e quali sono le loro conseguenze Potremmo cominciare con il dire Che avendo dei traumi intrinseci nelle nostre culture Avremo anche una concezione di male ben definita Che va a identificarsi ovviamente in ciò che ci ha causato un trauma Ma a livello collettivo la cosa assume proporzioni bibliche Infatti con una semplice considerazione Potremmo dire che chi conosce Chi è consapevole di questi traumi Sa dove stimolare il nostro odio E le nostre filie Per cui con un niente Sarebbe capace di condurci Contro o verso qualcosa Non so voi Ma è qualcosa che mi preoccupa alquanto Ma dunque Tentiamo di dare una risposta Gli adulti oggi possono dirsi Tendenzialmente conformisti? La risposta oggi è positiva Sì E non riguarda tanto i motivi che ci siamo detti fino ad adesso Riguarda il fatto che tendenzialmente Gli adulti tendono a calcificarsi nelle loro convinzioni Quando crescono e appunto Tendono a identificarsi nell'età adulta È un po' come se avessero la percezione di avere un po' più ragione Rispetto a quando erano giovani E non c'è niente di più conformistico Che credere di avere ragione In una concezione Nella quale ci siamo barricati Da decenni Magari Personalmente Non ho mai conosciuto Una persona Di un'età avanzata Magari 50 o 60 anni Che tende a rimettere in discussione Una convinzione che ha Magari da 20 o 30 anni Per cui forse la risposta è Quanto mai adeguata Sì Gli adulti sono conformisti E con questo giudizio Forse anche un po' severo È arrivato il momento di chiudere Vi avviso che potrete rivedere La seconda puntata De Il Conformista Sul canale YouTube di Onda TV Oppure sul mio profilo Instagram personale Li troverete qui iscritti Dunque buona serata E alla prossima puntata Ogni martedì alle 20 e 45 Con Il Conformista Tra provocazione e divulgazione È il risultato di una specie Che vola sempre a bassa Quota in superficie Poi sfiora il mondo con un dito E si sente realizzato Vive E questo già gli basta E devo dire che oramai Somiglia molto a tutti noi Il Conformista Il Conformista Il Conformista Il Conformista